il paolo ora si mette la domanda ehi 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 A медica är stacca! scarca! N пока! veda la-rava azzi va-bara? τη du? no! va-bara? grazie! E' un'altra cosa? È un'altra cosa? Noi, non è un'altra cosa? Ah! Oh! 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 Vai 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 vai! Sono! eeeh in mezzo eeeh 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 tuonoscei di moco eeeh Ehi, dai, dai, dai In mezzo, in mezzo, puoi ciò? Non fa giocare, non fa giocare, non fa giocare In mezzo, da me, da me, in mezzo Eccolo, no, no Punta Ehi, come viene? Bravo, dai E' buona fa, è buona Ehi, è buona grazie Appoggiare! Appoggiare! Bravo! Bravo! Ma che si va a fare il poterillaggino? Appoggia! Ehi! Ma che si va a fare il poterillaggino? Bravo! Bravo! Ehi! Non si va a fare il poterillaggino! Non si va a fare il poterillaggino! Ehi! Non si va a fare il poterillaggino! Ehi! 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 Vai gare dai! Ehi! Andai! Ehi! 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 Marco! Ehi! 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 Passo! ... ... Giro qua! Stai da, stai da, stai da, stai da